Vorrei chiamare l'assessore Barbara Paglucca, assessora della cultura del Comune di Pazziano per chiedere i miei ragazzi, le mie ragazze di Dio Paglucca Allora, vogliamo ricordare questa serata consegnando ai nostri ospiti una paga e consegnandogli anche una serie di prodotti su questa terra per ricordare anche gli aspetti più naturalistici di questo territorio Prego E' molto apprezzato Grazie E adesso diventa più complicato Allora Grazie assessore Grazie ai nostri ospiti Grazie